La commissione straordinaria che governa Lavagna farà ricorso contro la decisione della sezione regionale Ligure della Corte dei Conti che ha respinto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La decisione è stata presa ed ufficializzata. Il ricorso di fatto verrà presentato entro il 12 di gennaio, giorno in cui scade il termine di 30 giorni che la legge prevede per ricorrere contro questo tipo di sentenza. I commissari che governano il comune sciolto per infiltrazioni mafiose hanno avuto modo di leggere le motivazioni della sentenza che stima in più di 11 milioni il dissesto finanziario del comune di Lavagna. La sezione regionale di controllo che ha disposto il trasferimento degli atti alla procura contabile per la verifica di eventuali ulteriori responsabilità omissive con conseguente danno erariale aveva di fatto bocciato il programma di rientro del buco di bilancio che è stato causato in primis da cause legali. Ora i commissari presenteranno ricorso alle sezioni riunite della Corte dei Conti il che, giurisprudenza alla mano, dovrebbe avere l'effetto immediato di sospendere la decisione sulla deliberazione del dissesto. La decisione del grado superiore della magistratura contabile dovrebbe arrivare a breve. In casi analoghi la sentenza è arrivata in meno di due mesi dalla presentazione del ricorso. Si ricorda infatti una situazione simile che ha interessato il comune di Bracciano alle porte di Roma che ricevete la sentenza definitiva a fine novembre a fronte di un ricorso presentato ad inizio ottobre. La sentenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti dovrebbe dunque arrivare alla fine di febbraio o al massimo all'inizio di marzo. Ma evidentemente sulle tasche dei lavagnesi al momento tutto questo non avrà effetti concreti, in considerazione del fatto che la tassazione locale è già al massimo. A seconda del tipo di decisione della magistratura contabile, se accetterà il piano di rientro presentato o propenderà per il dissesto dell'ente, andrà a cambiare solo il modo in cui il comune si comporterà nei confronti dei creditori. In caso di fallimento pagherà quello che potrà proporzionalmente a ciascun debito, altrimenti lo farà in maniera completa, secondo il piano presentato. La rapidità del procedimento è essenziale, comunque anche per la nuova amministrazione che si insedierà al termine delle prossime elezioni, che fonti ministeriali danno a fine maggio. Manca ancora l'ufficialità, ma secondo indiscrezioni potrebbe esserci un accorpamento fra elezioni europee ed amministrative. La commissione straordinaria resterà in carica fino alla proclamazione del nuovo sindaco, il giorno dopo dunque la conclusione delle votazioni e del relativo spoglio.